Dario 7, migliore in campo, prima partita. Sì, è una buona prestazione della squadra, siamo riusciti a portare a casa i tre punti, è una cosa che vogliamo, adesso siamo, un punteggio pieno e cercheremo di andare avanti anche la prossima partita. Manca un punto, ovviamente daremo il massimo per portare a casa e passare il tiro. Grazie.